Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, non so se lei ha sentito questa testimonianza, noi ci proviamo ogni giorno a raccontare una parte del paese, perché in fondo non so se è d'accordo con noi, sindaco, i numeri sono importanti, i numeri ci servono a leggere questa emergenza, però forse non bastano, no? Sì, no, non ho sentito la testimonianza perché ero collegato da pochi secondi, ma questa è una tragedia umana che lascia il segno in maniera indelebile, intere generazioni di persone, soprattutto al nord, anziane, è una catastrofe di cui ancora chiaramente non ci si rende conto fino in fondo, perché poi oltre alla epidemia sanitaria stiamo anche in piena epidemia sociale ed economica che produrrà altre tragedie, quindi bisogna in questo momento trovare lo spirito di un grande popolo per ripartire. Senta, le facevo questa domanda sui numeri, perché con lei vorrei affrontare un argomento che è complicato da affrontare, perché è come se ci fosse una parte del paese che rifiuta una realtà che c'è. Ci hanno provato prima la sindaca di Roma, Virginia Raggi, poi il ministro del Sud Provenzano, il tema degli invisibili, che non sono necessariamente i poveri, i crociard, sono coloro che vivono nel nostro paese, che probabilmente sono sconosciuti al fisco o all'Inps, gente che con espedienti guadagna 30-40 euro al giorno e con quei 30-40 euro ci mangia, ci va a fare la spesa e ci paga le bollette. Sono quelle persone da cui, Sindaco, non so se lei è d'accordo con me, che noi facciamo finta di non vedere, ma da cui poi magari compriamo i calzini lungo una strada, in una bancarella improvvisata, o da cui ci facciamo parcheggiare la macchina. Quindi sono invisibili fino a quando non ci sono utili. Questi esistono. Qualche anno fa, un parroco di Forcella mi raccontò che nel suo, che è un quartiere di Napoli, insomma per chi non lo conosce, un quartiere centrale e popolare di Napoli, mi disse che nel mio quartiere c'è il 90% di disoccupati ufficiali. Se non lavorassero in realtà molti di più, io avrei le barricate per strada. Che ne pensa lei? Penso esattamente in questi termini. Per me non sono invisibili, perché per il Sindaco nulla è invisibile. Perché a differenza di altri politici, sindaci, stampa e strada. Stampa e strada per noi esistono le persone. E questo ragionamento per una città come Napoli vale molto. Perché Napoli è una città dell'economia del quotidiano, dell'allangiarsi, anche del sommerso, anche del lavoro nero, che non è colpa del lavoratore se sta in nero, ma molto spesso è di chi lo sfrutta. E questi sono rimasti senza reddito. È una platea enorme alla quale noi stiamo arrivando in questi giorni con una generosità sociale e con un attivismo dell'amministrazione senza precedenti. Abbiamo fatto un calcolo, guardi, pochi minuti fa siamo già arrivati a 15.000 famiglie che sono esattamente quella parte di città, quella parte di nazione che ha indicato lei prima, che esistono e che hanno diritti come gli altri. Ma voi come ci arrivate? Perché vede, molto spesso queste persone sono anche sconosciute ai servizi sociali. Vede, poco fa noi eravamo collegati con il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che diceva, forse una cosa, anzi sicuramente tra le tante cose che dobbiamo rivedere, è la sanità territoriale. Per molto tempo gli uffici prevenzione delle asle, no? Sono stati uffici abbandonati, insomma, il Presidente non ha detto così, ma intendeva dire che venivano considerati poco utili. Oggi abbiamo scoperto che gli uffici prevenzione delle asle sono invece la nostra, come dire, prima linea. E così, se lei mi consente, anche sui servizi sociali. Servizi sociali sono quelli che nei comuni solitamente faticano di più perché hanno meno risorse, meno impiegati, vanno in pensione gli avvocati e non vengono rimpiazzati e sono quelli che hanno più difficoltà ad arrivare a tutti. Voi come ci arrivate a quelli che noi, diciamo, non vediamo, che sono invisibili? Le rispondo subito con una brevissima premessa sul fatto che amaramente mi fa un po' sorridere che adesso diventano tutti sostenitori della sanità pubblica. Poi ci dovremmo ricordare dopo di chi è stato coerente e credibile e chi si è ravveduto sulla via della pandemia. E come ci arriviamo? In due modi, molto rapidamente. Uno è con questo Fondo Comunale di Solidarietà, il cuore di Napoli, attraverso un centralino, le persone hanno chiamato e noi attraverso il censimento che per la verità Napoli abbiamo, siamo riusciti a mappare subito con le loro autocertificazioni se si trattava di persone che facevano i furbi oppure no. I furbi sono stati pochissimi, 15.000 domande ammesse, tutte persone senza reddito censite. E ad altri arriviamo, perché ci può stare anche persone, come dice lei giustamente, non censite, con un altro numero verde, insieme, mai soli, dove chiamano le persone che sono rimaste all'improvviso senza la possibilità di alimentarsi. Senta, lei diceva giustamente della sanità pubblica, che non tutti, e poi insomma i conti come si suol dire si fanno alla fine, hanno sempre aiutato la sanità pubblica. Però noi abbiamo visto a Napoli, ancora prima di questa emergenza, anzi, non mi faccio dire Napoli, abbiamo visto in Italia, ancora prima di questa emergenza, due episodi, gli assalti alle ambulanze, siamo precedentemente all'emergenza Covid, e poi addirittura episodi di violenza all'interno di un ospedale. Segno, ma mi dica lei se sbaglio, sindaco, che non solo i politici non hanno considerato sacro il valore della sanità pubblica, ma nemmeno tutti i cittadini hanno capito quanto è importante. Beh, non tutti i politici, devo dire la verità, e non tutti i cittadini ovviamente, ma è così. Adesso ci sta rendendo conto di che significa sanità pubblica. Significa articolo 3 e 32 della Costituzione. 32, diritto alla salute, articolo 3, uguaglianza. Il virus in questo non ha classi sociali, anzi, ha colto soprattutto le ricette medio-alti, in alcuni casi come nella nostra città, e quindi adesso bisogna rendersi conto che bisogna garantire a tutti la possibilità di curarsi. E soprattutto se avessimo avuto un Paese che investiva in prevenzione, non ci saremmo trovati a due mesi dall'epidemia, che ancora medici si infettano negli ospedali perché non hanno dispositivi di sicurezza, come accade anche in questi giorni. Qui dobbiamo rivedere tutto, e penso che anche i cittadini debbano imparare a amare i beni comuni. No, amare questo vicolo che lei sta mostrando, amare un ospedale, amare una scuola. No, quando tu inauguri una scuola, e poi ci sta un'altra che viene danneggiata. Sistema in ospedale e ci sta chi lo distrugge. Questa è la cultura di un popolo che poi deve essere veramente democratico e che crede nella propria nazione. Ecco, proprio a proposito delle immagini che stavamo mostrando, Napoli è una città iconica da questo punto di vista, è una città che anche nell'immagine, nel gesto, fa scuola. Purtroppo molto spesso in positivo, a volte appunto anche in negativo. Napoli è la città delle contraddizioni e almeno per quanto mi riguarda la sua bellezza sta proprio molto spesso in queste sue, diciamo, contraddizioni. Potremmo dire anche nella sua unicità, con un centro storico popolare e allo stesso tempo elegantissimo, con ricchi e poveri nello stesso palazzo. C'è qualcosa, secondo lei, che Napoli come cuore, come città, Napoli è una città che ha, a differenza di altre, come ad esempio la capitale, una sua anima, no? Una sua anima abbastanza riconoscibile. C'è qualcosa che ha sbagliato Napoli, secondo lei? Napoli a me sorprende sempre in positivo, con questa sua capacità di resilienza. una città in realtà che si può piegare, ma non l'ammazzi mai, si rialza sempre. Ha una profonda sede di giustizia e l'ha dimostrato anche in questi giorni. È chiaro, anche in questi giorni, a Napoli come altrove, c'è qualcuno che ha violato le regole, ma non perché voglio fare una difesa d'ufficio della mia città, perché sono napoletano, perché sono protempore il sindaco di questa città unica al mondo, come diceva lei, inferno e paradiso, ma davvero i napoletani hanno risposto bene, anche con quella capacità di autogovernarsi, che non è molto diffusa in altre parti. Noi abbiamo anticipato quello che vedevamo in Lombardia, abbiamo chiuso le scuole prima del governo, i cantieri prima, ci siamo messi in quarantena prima, forse perché sappiamo che la sanità è stata ridotta male, forse perché abbiamo l'occhio lungo, forse perché sappiamo cos'è la sofferenza e forse anche in questo potremmo essere più rapidi nella ripartenza. Diciamo che Napoli è una città che la solidarietà la conosce o comunque la solidarietà fa un po' parte della sua anima. Io dico sempre che il no non è mai no, c'è sempre un modo per aiutare qualcuno quando è necessario. Le faccio un'ultima domanda, l'economia di Napoli in questa fase storica della città è un'economia molto basata sul turismo, c'è chi si è lamentato ad esempio della smisurata crescita dei bed and breakfast, ovviamente lasciamo perdere quelli illegali, parliamo di quelli legali, perché qualcuno ha detto un'economia così troppo volubile per certi aspetti, però è quella che ha portato milioni di persone in città in questo periodo. Senza turismo la città ha difficoltà. Secondo lei da dove riparte Napoli? Ma non c'è dubbio, la sua fotografia è corretta. Napoli è stata negli ultimi anni la città che più è cresciuta per cultura e turismo. Quindi questa per noi, come per altri luoghi, ma per noi è una grande botta, perché quell'economia circolare che ruotava attorno al turismo, al commercio, ha preso sicuramente una mazzata. Ma partiremo proprio dalla cultura e dagli spazi, dalla socialità, dalla bellezza e dalla vita della città. Stiamo programmando soprattutto quest'estate. Credo che la cultura sarà l'arma di riscatto e mi dispiace che di cultura non si stia parlando, perché la cultura mette in moto tutto, mette in moto la vita, mette in moto l'economia e poi molto ovviamente sulle attività tipiche della nostra città. Proveremo a dimostrare che stando all'aperto sarà più sicuro finito questo momento di emergenza. Ovviamente mantenendo delle cautele, ma Napoli ha degli spazi importanti. L'importante è essere pronti per la ripartenza. Noi stiamo pensando adesso alla fase 2, alla fase 3, altrimenti poi diventa complicato. Guardi, noi tra l'altro ci colleghiamo tra poco con Ciro Verdoliva che è il direttore generale dell'Asla Napoli 1 perché ci mostrerà l'ospedale diciamo stile One che sembra incredibile, ma no, sembra incredibile. Diciamo che Napoli ha dato un'isola, ecco, non è grande come l'ospedale di One, però insomma a Napoli la sanità campana ha dato dimostrazione di poter costruire un ospedale. Senta, le devo chiedere una cosa perché a noi non risponde il presidente della regione Campania, cioè non vuole rilasciarci un'intervista, ma c'è una cosa che non abbiamo capito un po' leggera perché non è che si può solo parlare di cose serie. Cioè si può vendere il pane ma non si possono vendere i dolci perché le pasticcerie devono stare chiuse. C'è stato il grande tema delle pastiere. Beh, lei ci deve fare questo favore, deve convincere nel rispetto diciamo delle regole sanitarie, della tutela delle persone e deve convincere il governatore, il presidente De Luca a dare la possibilità anche alle pasticcerie di produrre perché altrimenti il pane sì e i dolci no. Lei capisce che anche dal punto di vista glicemico non c'è differenza. Lo capisco talmente bene, lei sa può intuire che non sono tra i principali consiglieri del presidente De Luca ma trovo davvero il logico che non si possa a Napoli e in Campania portare il cibo a casa, qualsiasi tipo di cibo, tra l'altro anche da un punto di vista sanitario scenderebbe meno gente per strada. Questa è una di quelle cose illogiche ai tempi della pandemia. Va bene, insomma, sulle pastiere si può migliorare, su altre cose è andata bene. Grazie, allora Luigi De Magistris, grazie, sindaco di Napoli, eccoci qua.